Mentre l'attesa cresce per la rivelazione del cast della prossima edizione del Grande Fratello, che vedrà un mix tra celebrità televisive e volti nuovi, emergono particolari inattesi. Se non ci sono ancora indicazioni precise sui concorrenti non famosi, molte voci circolano sulle celebrità che avrebbero potuto entrare nella casa. Curiosamente, le notizie più sorprendenti sono relative a chi non vedremo sul piccolo schermo, tra prove saltate e vicende varie. Blog TV ha gettato una luce su alcuni di questi casi, segnalando tra gli esclusi noti Giorgio Manetti, Luca Speracchi e Paola Caruso. Giorgio Manetti, in un'intervista rilasciata a Tag24, ha voluto smentire qualsiasi rumor sul suo ingresso nel reality, dichiarando «La verità è che non ho alcun desiderio di unirmi al cast del GF. Ci fu un tentativo nel 2020, ma decisi di non proseguire. Similmente, Paola Caruso ha espresso la sua posizione, enfatizzando altre priorità. Come potrei avere tempo per i casting? Quando il mio focus principale è la fisioterapia di mio figlio? La sua guarigione è la mia priorità, non apparire al GF. Luca Speracchi ha manifestato il suo disappunto per alcune decisioni del programma, sottolineando «Ho sempre desiderato unirsi al GF, ma alcune scelte editoriali mi hanno dissuaso. Esclodere professionisti come me su basi precostituite è ingiusto e rappresenta una forma di discriminazione». Anche Guendalina Tavassi ha espresso la sua critica «Io sono concentrata sul mio lavoro e sul divertimento con Instagram. Tornerei al GF, ma non vedo spazio per influencer o figure controverse». Infine, tra i nominati, Federico Nicotera e Matteo Ranieri, precedentemente noti per uomini e donne, sembrano non aver conquistato il favore degli autori del programma.